ciao 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 da svideo allora faccio questo video perché voglio fare tantissimi tantissimi ma tanti 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 complimenti ad alessio dall'armellina perché ho da poco finito di vedere italia's got talent e c'era lui c'era lui come artisti ci sono stati tanti bravissimi performer ci sono stati tanti bravissimi musicisti ballerini c'è stato un po di tutto italia's got talent però alessio insomma intanto lo conosco quindi fa tantissimo piacere che una persona che conosci insomma sì io l'ho conosciuto tramite il mio canale youtube e quindi mi fa mi ha fatto tantissimo piacere vederlo insomma che è arrivato lì sul palco a fare un'esibizione del genere che poi non ha fatto una una sola performance ma ne ha fatte due di performance perché poi dopo la prima performance che è stata una challenge gli hanno addirittura chiesto di fare una seconda performance dove lui ha fatto una canzone solo con la batteria praticamente la prima challenge era quella della velocità della velocità quindi una sfida con se stesso e con gli altri no intesa una sfida con batteristi in genere a fare più bpm possibili con la batteria quindi lui è stato di una velocità incredibile dietro di lui c'era questo counter e quindi conteggiava i watt di bpm e andavo è partito piano e poi sempre più veloce sempre più veloce sempre più veloce sempre più veloce e poi dopo c'era il counter che leggevo 400 cavolo che lo vedevi di c'è incredibile incredibile complimenti veramente mamma mia chissà quanto allenamento per arrivare a questa velocità ma poi la tecnica la tecnica incredibile niente non sbaglio niente fuori posto ok giusta giustamente si vedeva un po la timidezza della persona sul palco che io penso che chiunque quando arrivi sul palco lì quando ti chiede iniziano a chiedere le cose le luci cose le personaggi lì davanti insomma e quello è normale ma poi quando quando si mette la batteria alessio è una forza della natura lì anche quella minima timidezza va via e lui esplode fantastico fantastico pazzesco alessio sei stato incredibile veramente incredibile e quindi davvero mi aspettavo me l'aspettavo che tu facessi una performance brillante ma ma così è stata veramente più più che bigliante strabiliante osirei osirei dire e quindi e poi dopo oltre quella lì della challenge della velocità ha detto mi hanno chiesto ma potresti fare anche una una canzone solo batteria e lui sceglie Enter Sandman che è un brano che adoro 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 la follia quel brano dei Metallica e quindi c'è veramente c'è anche la scelta e quasi tutto e anche lì è stato fenomenale ok che dire sì ma hai fatto prima 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 poi adesso dobbiamo parlarne della tua esperienza vabbè vabbè vedrai se 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 potrai una una volta vabbè vabbè vediamo 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 se potrei parlare io intanto niente cosa dire cosa dire cosa dire l'altro veramente tantissimi tantissimi complimenti bravo 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 è bravissimo è velocissimo e niente e farà cose sempre più spettacolari adesso se poi partano delle challenge così diventa ancora più ancora più interessante sempre 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 di più quindi mi raccomando seguite tutti Alessio vi metterò il link in descrizione ciao chiudiamo